metti un po di questa ammazza qua l'uomo ragno diventi con questa qua siamo cattivo è vado un po' 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 ah Spinati dalle punte dei piedi. Eccolo lì, bravo. Peso destro. Vai, 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 spingi col destro. Mani basse, tieni le basse e spingi. Vai, 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 vai. Ok. Adesso figgiti dei piedi. C'è lì, sì, sì. È lì, sì. sembra che non c'è una tacchetta dove mettere qui aspetta 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.